un po' che parola un po' che parola dove si appoggiare le macchine 6-5 ore e quando si appaggia la porta è possibile fare la foto un po' che parola da circa un pianto chiudi gambe dai porti dai porti un segno un po' di gioco un po' di gioco un po' di gioco